Sono il dirigente del servizio al cantiere TAP, sono il dirigente della polizia del cantiere TAP, abbiamo al cantiere TAP di San Foga un'ambulanza... Allora, è partita, scusa un attimo dottore, ma l'hanno mandata già un'ambulanza ed è partita da Martano, da Martano, è partita da Martano, se vuole... E quindi vuoi venire qua, va bene? Un attimo, se vuole la metto in conferenza, che è successo? Mi metto in contatto, mi metto in contatto con l'ambulanza. Intanto posso capire che è successo? È una signora che durante un servizio di polizia con noi, si è rimasta a terra conti, mi sta tutta... Va bene, un attimo, allora la stessa cosa, un attimo che ti faccio parlare con l'ambulanza che sta arrivando. Fatemi parlare con l'ambulanza, sì. Sì, Martano. Dottore, ti sto facendo parlare con il dirigente della polizia, eh? No, mamma. Prego, parlate. La Dio e la Dio e la Dio e la Dio e l'ambulanza la portano qua. Va bene. Pronto? Sì, pronto. Pronto? È l'ambulanza? Sì, sì, sono il medico. Dove state? A Medellugno. Venite davanti all'ingresso del cantiere della tappa dell'Eurogarden, lo conoscete? All'Eurogarden? Sì. C'è l'ingresso, c'è una pattuglia della finanza, va bene? Che vi porterà poi sul posto perché dovrebbe stare nelle state poderali, va bene? D'accordo, d'accordo. Va bene? Va bene. Però fate in fretta comunque, grazie. Grazie. Va bene. Grazie a tutti.